salve a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi vi spiego come comprare così sulla piattaforma games go l'abbonamento netflix a soli 3 euro e 67 al mese ma ovviamente ci sono gli altri piani come puoi vedere c'è quello da un mese due mesi tre mesi 6 mesi e 12 mesi quindi in questo caso tu puoi anche comprare i profili condivisi oppure un solo profilo di tre mesi 10 euro e 99 più il codice sconto che vedi direttamente sullo schermo questo qua per risparmiare sugli abbonamenti ovviamente adesso ti faccio vedere io che compro un abbonamento netflix di tre mesi che l'ho pagato 12 euro ma ovviamente hanno anche è sceso anche di prezzo quindi ed eccolo qua quindi per farti un piccolo esempio che io compro un netflix sulla piattaforma games go come puoi vedere vado così al pagamento questo è il prezzo di tre mesi di 12 euro e 74 centesimi più il codice promozionale vado direttamente su netflix inserisco così le credenziali che mi hanno mandato per via email oppure li trovo direttamente sui miei abbonamenti games go e clicco così il mio profilo e dentro su netflix se non ti arriva niente per via email puoi vedere direttamente su abbonamenti di games go quindi vai direttamente sul profilo qua sopra e c'è scritto il mio abbonamento ed eccoli qua ovviamente ho alcuni abbonamenti che sono scaduti ormai da un bel po di giorni tipo avevo quello di netflix e mi è scaduto netflix di tre mesi qua puoi vedere le mail e la password e ovviamente te lo rinnovi ti danno anche dei giorni gratis quindi dei giorni extra in più per goderti il tuo netflix quindi la piattaforma games go è una buona piattaforma sicura legale affidabile se non ti piace puoi direttamente chiedere il rimborso e hai l'assistenza 24 ore su 24 come puoi vedere qui ho portato vari clienti come ultimo cliente hanno quindi ha comprato così netflix 12 mesi e l'ha rinnovato quindi se tu vuoi risparmiare a guardarti così lo streaming oppure ascoltare musica come spotify qui trovi anche spotify puoi risparmiare grazie a games go ti danno un account ti puoi tenere quell'account per sempre se rinnovi sempre gli abbonamenti ok e non rinnovi l'abbonamento poi semplicemente comprarlo di nuovo e ti danno un altro account un email e una password e che puoi accedere quindi per altri problemi puoi commentare sotto al video oppure puoi iscrivermi direttamente su discord o instagram quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao